Signor Michele, a parte che a me mi sembra di avere la pelle vista da qualche parte, ora mi ricordo un dove un venenamento, a Treppio, può volerarsi visto a Treppio? Ma, ma, eh, ha voglia! E fu l'altro che tu mi hai visto a Treppio? Da piccino ci andai a giocare con mia nonna a Treppio. E fuole, fuole, bah, bah, bah! E ci sono stato più di una volta, oggi! Ma lei, per esempio, che è nato a Tobbiana, si sente più di Tobbiana, più di Treppio? Ma, senti, ma, mia mamma è già di Badia Pacciana, e mia mamma è già di Caffaggio, e io sono nato a Tobbianella, se che che ti devo dire, e mi sento un po' capito? E senta, questa sua passione per andare a pegliare le castagne a Cavarzano? Bah, bah, bah! E poi, ma che è vero che andai a Angarcita e a pegliare nel culo? Dice anche questa voce, la Cina? Bah, bah! Poi, dice, l'hanno beccata a graffiare l'automobile con una bulletta in piazza delle carceri, faceva gli spiaggia alle genti? Bah, bah! Poi, dice, anche le piccia su fiori della sua vicina, la piccia su fiori gliene ha fatti seccare mezzi, le rose, ciapea? No, allora, le morte gli hanno dicerie delle genti maligne, c'è le gente cattive che gli hanno messo in giro queste dicerie, ma, bah, bah, i l'automobili non mi ha graffiare, una volta picciata su fiori, ma che c'entra, scusa? Quella è una cosa personale, perché, perché lei, e mi vuoi il pallone, e gli ho detto, ora tu la ricavi! Grazie!